Buongiorno a tutti, sono Fioravante Piero Bond del sito LZD3 di Input.com, ben ritrovati all'analisi dello standard Input 500. Oggi siamo il 24 ottobre 2009, come nostro consueto analizzerò ciclicamente il mercato e daremo un'occhiata anche ai volumi, alla situazione volumetrica, barra dopo barra, in quanto già nel precedente video della settimana scorsa indicavo che c'era qualcosa nel rialzo in questo ultimo ciclo 3CPU, un ciclo a 16 giorni di media, che c'era qualcosa che non quadrava. Inoltre, situazione ciclica incerta, come sappiamo, sul fatto di un possibile intermedio già partito, adesso con questo grafico qua per dire il ciclo intermedio è partito il 13 luglio, c'era una situazione un po' ambigua in cui si poteva pensare che ad ottobre fosse partito un ciclo nuovo in questo punto, visto il buon rialzo che c'è stato dalle 5 ottobre 2009. Situazione dubbia e a me non decisamente chiara, infatti davo il 50% di probabilità che fosse già partito oppure che effettivamente dovesse terminare. I volumi non mi quadravano, quindi adesso vediamo un po' effettivamente insieme di andare a vedere i volumi come si sono mossi, barra dopo barra, quindi un'analisi volumetrica, barra dopo barra. Vediamo in questo rialzo, ora ve lo faccio vedere, nello standard in PUR 500, dal minimo che c'è stato in questo ciclo che si è sviluppato 3CP1, vediamo che dal 3, anzi dal 5 di ottobre 2009, vediamo in poi che i prezzi salgono, però i volumi scendono, fino ad arrivare al giorno il 15 ottobre 2009 che abbiamo invece degli altri volumi. Da lì, dal 15 ottobre 2009 abbiamo addirittura 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 giorni che il mercato va su e giù e in laterale, con volumi invece molto alti, quindi nella fase rialzista volumi bassi, quindi questo significa che c'è qualcosa che non torna, che il rialzo non è sopportato dalle mani forti, mentre 7 giorni addirittura di prezzi in laterale, in cui poi i prezzi trovano questa resistenza di questo canale di trend rialzista e non riescono a romperla in su, continuano a zizzagare per 7 giorni con volumi molto alti e dando probabilità che poi dalla parte che effettivamente le mani forti stiano distribuendo, ripeto, volumi bassi nella fase rialzista e nella fase rialzista volumi molto alti. Se andiamo a vedere poi anche che io utilizzo sempre a 15 minuti l'indicatore di accumulazione e distribuzione di Larry Williams che calcola l'accumulazione e distribuzione anche con i volumi, vediamo effettivamente, avevo già fatto vedere questa cosa qua, che c'è una grande divergenza dell'accumulazione e distribuzione in confronto dei prezzi, minimi e massimi crescenti dei prezzi dello Standard & Poor's 500, mentre minimi e massimi decrescenti dell'accumulazione e distribuzione. Vedete effettivamente, dato che ci sono stati i volumi in questo rialzo e mentre vi ho fatto vedere che erano decrescenti, i volumi, eccoli qua, effettivamente l'indicatore di accumulazione e distribuzione mostra poi questa divergenza, i prezzi, cioè l'accumulazione e distribuzione non hanno superato il massimo del ciclo precedente a 16 giorni, quindi anche questo non quadrava e le probabilità per l'area mio sempre di più in questa ultima settimana si sono spostate dalla parte che il ciclo intermedio deve ancora terminare. Per una configurazione finale di questo tipo, un ciclo intermedio a 3 3C più 2 e adesso siamo più o meno nella seconda metà dell'ultimo 3C più 2, quindi teoricamente dovremmo mancare ancora una quindicina di giorni, 14-15 giorni di fase discendente a chiusura effettiva del ciclo intermedio. Quindi operazioni a rialzo erano vivamente sconsigliate, quelle a ribasso molto rischiose perché effettivamente le operazioni di basso sono contro trend perché siamo ancora in un ciclo intermedio impostato a rialzo come poi potete vedere tranquillamente anche dal canale del trend che qui ho tracciato. Minime e massimi crescenti. Quindi la cosa migliore sarebbe stata quella di stare effettivamente fermi. vediamo poi con gli oscillatori ciclici il ciclo appunto 3C più 2 di cui ho parlato. eccolo nel precedente ciclo intermedio cominciato a marzo e ce ne sono stati 1, 2 e 3 e anche in questo ciclo sembra abbia la stessa struttura, infatti un ciclo 3C più 2, il secondo e adesso abbiamo il terzo che ci dà un segnale di probabile massimo che dovrebbe essere confermato comunque alla rottura di 1,072,50. Una buona rottura comunque, ma ovviamente appena appena che i prezzi li vanno sotto come è successo ad esempio ieri venerdì. E per una proiezione ripeto finale di questo tipo qua. Chiusura del ciclo intermedio effettiva con struttura a 3C più 2. Con questo è tutto vi saluto, vi attendo per sabato prossimo e vi auguro tutti buon trading. Grazie a tutti.